buongiorno a tutti oggi sono qui a fare questo video perché molti ragazzi mi hanno chiesto informazioni su questa videocamera che io e gli altri componenti del nostro gruppo usiamo per fare alcune delle nostre riprese quindi cercherò di fare anche perché non è molto semplice spiegare ogni volta per telefono per messaggio il funzionamento di questa telecamera e comunque sia per chi avesse ancora dei dubbi anche perché magari chi ovviamente volentare un po più nello specifico può contattare tranquillamente anche l'azienda bitrabi quindi si può trovare il numero di telefono oppure via mail come volete contatti si trovano su internet da tutte le parti quindi io passerò a spiegare le funzioni principali di questa videocamera allora innanzitutto vediamo cosa troviamo al momento che questa è la confezione apriamo la nostra confezione libretto di istruzione che in inglese in italiano quindi sono praticamente tre pagine quindi insomma leggibili da chiunque molto specifiche quindi non c'è molto semplici cosa fondamentale cavo usb che serve sia per la ricarica e sia per poter trasferire file dalla telecamera al nostro pc più c'è ovviamente il caricabatterie quindi ovviamente anche per una ricarica più veloce e l'odracam l'odracam con un attacco che può essere usato per applicarlo sotto la canna del fucile come vedete è a strappo con un adesivo perciò si inserisce l'odracam al suo interno e si e la si può usare diciamo come attaccandola semplicemente sotto la canna del fucile ovviamente questo attacco qua non è un attacco che possa garantire la massima tenuta soprattutto per chi caccia nel bosco che può oppure per chi spara molti colpi che si riscalda molto la canna personalmente io utilizzo il suo attacco come potete vedere con ammorsetto con una classica brugola lo avvito alla canna del mio fucile rimane così con la pulsi antiera mi raccomando che sia accessibile quindi quando montate vedete dovete montare con i pulsanti poi si possono anche rigirare mettervi sotto ma diventa un po scomodo così puoi sempre a portata di mano l'accensione della dell'odracam allora questa telecamera presenta un tappo posteriore che svitandolo c'è anche l'indicazione quindi non ci si può sbagliare si trova al suo interno la batteria che si può trovare anche di ricambio e leva i vari inserti per i cavi usb per la ricarica per il trasferimento file e la sede questo piccolo taglietto per la scheda sd allora molto molto importante per il funzionamento di questa fotocamera è lsd lsd che vi travi vende direttamente quindi se uno nel dubbio deve acquistare un sd la può comprare per evitare proprio appunto di sbagliare l'acquisto direttamente sul sito bitrabi se no io vi consiglio che appunto acquistato da loro ve la faccio vedere che a parole sono tutti bravi questa sd questa è una sandisk ultra 64 gigabyte se potete vedere com'è ecco queste sd sono sd classe 10 e questa la differenza che fa un sd normale da questa è che con sd normali ve lo posso garantire perché ho provato a volte o registra male o non registra in certi formati o non si sente l'audio o peggio ancora dopo tre filmati la memoria è già piena quindi con questa qua non si rischia niente la differenza di prezzo da questa è un'altra è pochi euro è chiaro che magari chi ce l'ha a casa e vuole fare un tentativo lo può fare però non è garantita la perfetta riuscita del video o dell'audio l'audio che viene registrato da questa parte inferiore la fotocamera non si può immergere nell'acqua cioè non è che se vado a caccia inizia a piovere si sciupa mi è capitato molte volte però è chiaro che personalmente quando trovo giornate che in cui piove molto tendo sempre ad aprirla e metterla la uso solamente quando ho piovigio oppure sono preso dall'acqua e non posso fare altrimenti più catto per un discorso che se urto la telecamera in un momento sbagliato picchio su un oggetto abbastanza duro possa rischiare di infiltrare l'acqua quindi non voglio evitare queste cose però la telecamera si può cacciare anche sott'acqua non va immersa nell'acqua è lasciata tempo come se vado in un fiume cerco di di guardarlo con la telecamera la canna del fucile sott'acqua però se piove una cosa normale grossi problemi non ci sono detto questo punto l'attacco che un attacco in alluminio come vedete rinforzato quindi questo si può applicare su qualsiasi arma da carabine a fuscili esiste l'attacco anche da testa o per le doppiette quindi diciamo che si trova qualsiasi cosa sempre sul sito bitrabi allora la telecamera quando è accesa da molto tempo si può surriscaldare quindi ogni tanto magari spengetela ed è come tutte le cose quasi tutte le cose elettroniche quindi non è che si sciupa però se sentite il calore sulla telecamera è solo perché l'ha stato usando di continuo personalmente io spengo sempre l'odracam al momento che ho finito l'azione di caccia oppure ho sparato il mio colpo perché non amo rivedermi poi in futuro 5 6 ore anche se comunque sia sarebbe bello di video pure utilizzando 12 sd durante la giornata di caccia perché sarebbe una cosa impossibile quindi cane fermo oppure arriva il colombaccio pure sento arrivare il cinghiale piso il pulsante di accensione parte del video sparo l'animale va via finisce l'azione spengo la telecamera ecco questo è quello che faccio io personalmente consiglio a tutti perché sono sempre video che variano da un minuto e mezzo due minuti tre minuti cinque minuti sono visibili da tutti e si possano caricare anche su tutti i telefoni appunto questo oggetto qui può essere i file della della o tra campo possono essere scaricati sia con un cavo sd o con l'applicazione che ora vi farò vedere partiamo però dalla base la base ovviamente inserisco la la scheda sd nella parte giusta mi raccomando se la inserite nella parte sbagliata vedete che non entra quindi non forzate le sd deve entrare così vedete la inserisco vedete perché quando la pijo si deve bloccare se la voglio levare la rifigio esce quindi la la inserisco quando le sd è piena vibra la fotocamera quindi non registrerà più quindi quando sentite che vibra o si accendono le luci o è scarica quindi va ricaricata o la memoria piena quindi va svuotata la memoria quando è accesa non devo fare altro che per premere questo pulsante come premio questo pulsante la fotocamera dopo poco inizierà a vibrare il momento che vibra il video parte quindi facciamo la prova si accende il led si accende quello sotto inizia a vibrare inizia a lampeggiare quando lampeggia in questa situazione la telecamera sta riprendendo l'azione di caccia se voglio entrare nel menu o voglio attivare la wifi o voglio cambiare qualità del mio video devo semplicemente premere questo pulsante qui l'accensione una volta si bloccheranno i pulsanti e con questo del menu questo è il pulsante del menu con non so se potete vedere c'è una m dopo ve la faccio vedere pigiando passo alle modalità ora nel video non so se si vede ma è cambiato il colore questo è un colore verde prema un'altra volta è un colore blu acceso prema un'altra volta è un colore misto tra verde e blu il verde blu è la qualità a mio avviso hd la migliore che si può usare per la caccia la modalità verde come in questo caso è il 4k la modalità azzurra e 2.7 k quindi diciamo che con queste tre modalità io faccio tutti i miei video in base a la qualità che voglio realizzare detto questo vado ci si può anche impostare la modalità pre rec pigiando 5 fino a 5 secondi il pulsante d'accensione per la modalità pre rec è comoda perché ti permette sempre di essere rapido per l'accensione al momento che il cane punto oppure del durante la cacciata però consuma molta batteria e in più come avete visto vi faccio rivedere spengo la telecamera tenendo premuto il pulsante d'accensione si spengi led io personalmente faccio così pigio spengo e accendo premo con 1 2 3 4 4 secondi prima di partire il video quindi diciamo che senza stare a consumare batteria inutile posso semplicemente accendere spengere la mia o tra cam e in modo che magari risparmio anche un po di batteria adesso vi faccio vedere come si può scaricare i filmati dall'applicazione ovviamente spengo perché prima va spiegato una cosa l'applicazione che si scarica su qualsiasi app store qualsiasi piattaforma per che si usa play store quello che vi pare è questa simbolo qua questa vi faccio vedere con dove si trova come vedete voi in alto questo simbolo giallo quello non lo passo si si vede meglio con la te questo simbolo giallo con la testa della lince che appunto rappresenta il simbolo dell'overcam una volta scaricato vi fa inserire un codice seguendo l'indicazione del che si possono trovare sul manuale di istruzioni si inserisce semplicemente questo codice si va al collegamento dell'overcam se io accendo alla mia applicazione vedete che si vede le immagini sotto si vede una parte di un mio video che ho fatto e ho salvato e sopra si vede questa scritta che c'è scritto disconnetti perché non è collegato quando il la telecamera sarà collegata all'applicazione su questa fascia nera appare dalla scritto connetti facciamo la connessione io ho finito la mia battuta di caccia questa è la parte più dura ci provo accendo la mia telecamera accendo la mia telecamera lei parte a registrare premio on si blocca tengo premuto il pulsante meno vibra inizia a lampeggiare questa luce sopra lampeggiando questa luce sopra lei si è collegata alla wifi cioè ha acceso la sua wifi io non faccio altro che andare sul mio telefono vado sulle wifi attenzione questo è un punto importante questa è la wifi classica mia la spengo io faccio così può magari sbaglierò però non mi questo è il mio modo riaccendo il wifi tenendo più già premuto cerco vado a cercare di wifi come vedete appare la rete o draham premio sulla rete o draham e parte la scansione adesso mi dice connessione al dispositivo effettuato giusto fatto ciò ovviamente aspettiamo un secondo che che si possa collegare fatto ciò vado alla mia applicazione e come vedete viene la freccetta scritto connesso premo premio al suo interno e lei mi sta riprendendo come vedete vedete io parlo e lei io tramite la mia condizionatori se però vedete io sto riprendendo quello che vedete in diretta per il bel ragazzo io per ragazzo parliamo comunque sia fatto ciò io da questa applicazione ora vedo cosa sto facendo vado a galleria se voglio rivedere i miei vecchi filmati vado vedete appare tutti i filmati che io adesso ho fatto premio sentire che si sente la registrazione di quello che ho fatto perché ha già salvato dire quello appena detto sul video adesso da questa applicazione posso ovviamente fare diversi passaggi per eliminare il video vado sull'icona seleziono l'icona vado sul cestino se lo voglio cancellare e viene scritto elimina che ora non si vede comunque elimina o cancella se io premo elimina mi cancella completamente il file se premo cancellano rimane sempre di quindi premete elimina e quindi si leva tutti i problemi da questa applicazione qui si può fare praticamente tutto tutto quello che volete fare se io vado nelle impostazioni mi appare che ora non vedete ovviamente non potete vedere forse vedete male tutta la scheda della dell'eodrame delle applicazioni che io posso posso fare posso mettere qui c'è l'opzione l'opzione mirino come vedete non so se potete vedere mirino e slow motion c'è capovolge l'immagine per chi volesse metterla in determinate posizioni la vibrazione si può allevare o si può accedere video fast motion si può avere riduzione del rumore del vento insomma aggiornamenti da questa attenzione sono un momento che un al momento che uno entra può fare quello che vuole può cambiare la qualità del video e quant'altro diciamo che è molto intuitivo come come oggetto per scaricare quei video che vogliamo fare direttamente sul telefono andiamo sulla galleria la galleria seleziono un video e piso la freccetta di download e lui scaricherà il vostro filmato quindi è abbastanza facile se una volta che ognuno è entrato nel meccanismo il discorso del mirino che è una cosa può piacere a molti è un discorso un po particolare perché comunque sia non possedendo un vero e proprio registro all'interno della telecamera per poter centrare anche perché in base a quello su cui viene montata può cambiare se monto l'odragam su una carabina su un fucile su una doppietta o su quello che mi pare può cambiare moltissimo l'inclinazione quindi se uno vuole avere la perfezione e utilizzare il mirino dell'odragam che si può attivare o non attivare quindi per evitare proprio questo problema bisogna ma fare degli spessori da noi personali che padina inserirsi tra l'attacco e la telecamera oppure all'attaccatura dove va la canna in maniera da regolare il il mirino in base al mirino vero e proprio del fucile quindi appoggerò il mio fucile miller o un punto fisserò l'odragam e tramite l'applicazione come vi ho fatto vedere guarderò in tempo reale dove mira al mirino e dove mira l'ora quindi da quel punto servo tutto e belle e gioco è fatto ecco ovviamente non è un'operazione molto semplice perché richiede con molti chi spara molti colpi chi spara cartucce molto grosse e le vibrazioni possano comunque sia far prendere un poi diciamo all'attacco anche perché trovare un attacco che sia veramente che servi veramente al massimo la telecamera vorrebbe dire un attacco in acciaio un attacco in acciaio senza appunto materiale in gomma come questo che non rovina che fa evitare di rovinare le canne a quel punto l'attacco l'odragam non si sposterebbe ma si grafferebbe la canna diciamo che basta tenerla un po controllata basta starci un po attente a queste cose che problemi non ci sono come tutte le cose adesso la spengo come tutte le cose ha bisogno di comunque un minimo di attenzione per qualsiasi problema va visto si possono fare vari aggiornamenti basta contattare appunto l'azienda abitrabi io personalmente vi lascerò a fine di questo video alcuni video fatti con questa telecamera che comunque potete vedere nei nostri video di calciatori giovani visto che la usiamo molto spesso per fare appunto queste riprese perciò niente vi invito a provare questa piccola ma ottima telecamera per la nostra passione la caccia telecamera per la nostra passione la caccia telecamera per la nostra passione la caccia Grazie a tutti.